Buonasera, ben ritrovati con l'informazione. Partiamo dalla emergenza criminalità a Foggia e sull'assordante silenzio delle istituzioni e anche sull'appello lanciato ieri. Abbiamo raccolto questa mattina le dichiarazioni dell'assessora regionale al welfare Rosa Barone. Sentiamo alcuni passaggi di questa intervista. C'è proprio bisogno di un cambio di passo che sia prima di tutto culturale, partendo quindi dalle scuole, da una maggiore consapevolezza dei cittadini tutti, per poi poter in qualche modo riprendere le fila di dinamiche che sono assolutamente ormai perse e molto frastragliate, quindi che non si possono così recuperare. Probabilmente prendere tutti una maggiore consapevolezza del momento storico gravissimo che si sta vivendo per poter in qualche modo trovare una soluzione tutti insieme. C'è bisogno appunto di un riscatto, di un risveglio di tutta la comunità, di tutte le parti interessate, non soltanto la politica, però anche la politica. Il tema della sicurezza e della legalità, a prescindere da chi viene ammazzato, credo che debba essere centrale anche nelle prossime dinamiche comunali che verranno a breve. Io sono infatti molto arrabbiata e molto delusa del comportamento della ministra Lamorgese che ha rimandato questo consiglio. Credo che però al netto della ministra sia il Consiglio regionale a dover prendere e assumere delle responsabilità davanti a un'intera provincia, perché poi non è solo la città ma è tutta la provincia che è in affanno e credo che al netto della presenza debba farsi e svolgersi questo Consiglio monotematico richiesto prima da Tutolo, ma io apposi immediatamente la firma in piena collaborazione appunto con l'ex sindaco di Lucera, ritenendo che sia centrale e importantissimo per tutta la regione prendere anche loro consapevolezze, consigli regionali di tutto il territorio, di quella che è la realtà storica nel momento drammatico che la città avviva, al netto la presenza della ministra. C'è un rapporto diretto con i commissari? Io devo essere sincera, io ho un rapporto ottimo tanto con i commissari quanto con gli uffici, abbiamo collaborato, stiamo collaborando proprio sulle tematiche sociali legate alla regione Puglia, stiamo affrontando alcune lentezze degli uffici comunali di Foggia e devo dire la verità ho trovato massima collaborazione, voglia di risolvere i problemi che erano tanti e derivavano chiaramente da passate gestioni, quindi io posso dire dalla mia che c'è un rapporto, un dialogo, un confronto continuo con i commissari, anche ieri mi sono sentita, quindi non posso lamentare questo aspetto assolutamente. In Puglia preannunciata l'attivazione di sei centri di ascolto, uno per ogni provincia riservato ai maltrattanti. Il tema è quello delle violenze domestiche, dunque per gli uomini violenti, un percorso di rieducazione e di riabilitazione. Il progetto è stato presentato questa mattina a Bari, sempre presso l'assessorato al welfare. Abbiamo voluto insieme, chiaramente in collaborazione a più livelli con i ministeri, dar vita a questi centri di ascolto, sono sei in tutta la regione, quindi in ogni provincia, per far sì che anche le persone che sono autori, protagonisti di questi atti di violenza che possono essere più o meno gravi, possano in qualche modo confrontarsi, trovare personali e professionisti adeguati alle dinamiche, alle problematiche, per poter affrontare e magari determinare quel cambio culturale e psicologico necessario per poter invertire la marcia. Sappiamo che il numero dei femminicidi è altissimo, nello scorso anno su 280 omicidi, 114 sono stati femminicidi per lo più svolti nelle case, da rapporti intrafamiliari, quindi chiaramente c'è una frustrazione o c'è un disagio maschile che sfoga poi in una violenza particolarmente cruente e quindi questi centri di ascolto credo siano molto importanti, rientrano ovviamente in quella che è l'articolo 16 della Costituzione di Istanbul che prevede un supporto anche ai maltrettanti, anche a chi fa violenza per aiutare a uscire da questi vincoli, vicoli o queste difficoltà insomma probabilmente emotive, sociali o personali che vivono. Ecco dal punto di vista della strutturazione chi entra in gioco? Sono dei professionisti, psicologi? Sì, sono professionisti che hanno almeno svolto 5 anni di percorso, quindi già ovviamente con un certo curriculum, con un certo passato e che debbano, sono uno storico, e che debbano appunto poter avere dei rapporti, dei confronti costanti con queste persone da poter in maniera sviluppare un senso magari di colpa piuttosto che uno sviluppo o comunque la volontà di uscire da questi tunnel, da queste difficoltà e magari appunto riuscire a instaurare un dialogo con la moglie, con la compagna, in qualche modo uscire da queste dinamiche insomma violente è assolutamente da reperire. Manager nel settore dei viaggi e del turismo. Sono figure di particolare rilievo per la promozione e per la vendita di servizi in un settore importante per la nostra economia regionale, ma non solo. A Bari questa mattina al termine di un percorso di formazione la consegna degli attestati abilitanti per 13 direttori tecnici di agenzia e tour operator. Credo di essere più emozionata oggi che il giorno in cui mi sono laureata, perché a 40 anni scopro che si abbraccia quello che è il percorso di studi con il lavoro, che è quello che ci permette di realizzare dei sogni ma di sentirsi adulti e di aver contribuito alla società. Noi andremo avanti comunque, in bocca al lupo a tutti, ce la faremo. Finalmente dopo 15 anni la Puglia ha dei nuovi direttori di agenzia, sono i conduttori delle imprese del turismo che si occupano appunto di non solo di far viaggiare i pugliesi nel mondo ma anche di organizzare l'offerta turistica nella nostra regione, di renderla sempre più attrattiva soprattutto di assicurare la qualità dei servizi e dei pacchetti turistici che si vanno a costruire nella nostra regione. È una figura assolutamente indispensabile che ci veniva richiesta da anni e oggi con queste abilitazioni abbiamo la possibilità davvero di arricchire il nostro tessuto economico, professionale legato al turismo e ci permetteranno appunto di fare in modo che la nostra regione sia pronta anche alle sfide del prossimo futuro con grande professionalità. Oggi oltre alla consegna degli attestati a questi nuovi 13 manager del turismo pugliese abbiamo anche la possibilità di restituire un percorso chiaro legato all'abilitazione di queste nuove figure professionali perché è in pubblicazione sul bollettino ufficiale la nuova procedura che sarà omogenea in tutte le regioni d'Italia ci ha permesso di recepire la normativa nazionale soprattutto di avere un percorso chiaro in tutte le regioni d'Italia per diventare direttore tecnico di agenzia. All'esina via la cava e le strade limitrofe, cambiamo completamente argomento, diventano un fiume in piena ogni qualvolta piove abbondantemente, un problema che persiste da decenni e ha attraversato diverse amministrazioni senza mai essere stato risolto. Ma ora ci sarebbero novità, sentiamo le interviste realizzate da Fabrizio Sereno. Ogni volta diciamo che sono capitati due episodi più eclatanti da quando vivo qui, noi ci siamo trasferiti a dicembre e un paio di volte le strade si sono trasformate in fiumi, l'acqua non riesce a defluire e per ore comunque si crea una situazione critica, l'acqua entra in casa, nel quartiere la gente cerca di arginare con delle paratie, con mezzi di fortuna, però il problema oltre all'acqua che scorre copiosa è anche creato da chi passa con l'auto, perché comunque la zona non viene transennata per tempo, perché probabilmente ci sono anche difficoltà nel gestire altre emergenze e quindi noi abitanti cerchiamo di bloccare più o meno gli accessi, di limitare i danni. Non si tratta di sostituire un tombino, qui arriva l'acqua di tutto il paese, probabilmente anche dall'alto da Poggi Imperiale, qui si crea proprio un fiume e i tombini non raccolgono, le griglie non raccolgono, le pompe se funzionano non sono sufficienti. Quella di Via La Cava è una via che io conosco, sono nato in quella strada lì e ci ho vissuto fino a quando poi ho cambiato residenza con il matrimonio. Sì, effettivamente è un problema molto particolare, è un punto di depressione, raccoglie tantissima acqua, tante volte con la mia mamma abbiamo visto galleggiare dei mobili, però la novità è che c'è stato finanziato dalla regione un impianto di sollevamento per 300 mila euro e noi abbiamo anche già dato l'incarico per la progettazione esecutiva, quindi a breve avrà risoluzione. Mito e leggenda incrociano la storia e diventano un mezzo per valorizzare il territorio, così Lucrezia Accilenti e la serendipita 3L riprendono la storia di Uria e immaginano un museo semisommerso nel lago di Varano. Tommy Guerrieri. Incrociare leggenda, mito e storia e soprattutto lasciare una traccia di tradizioni orali che si stanno perdendo. La serendipita 3L incrocia le ricerche di Vito Carrasi sulla città sommersa di Uria e avvia l'idea di un museo semisommerso nel lago di Varano, una leggenda poco conosciuta che presto potrebbe diventare mezzo attraverso cui valorizzare il territorio. La città di Uria, governata dal cattivo Tauro, viene inabissata come punizione degli dèi per le mavagità che gli abitanti e loro re compiono. Un diluvio lungo una notte che si ferma solo grazie alla purezza di Nunzia, sarà lei rimasta in vita a diffondere la storia e a incrociare il mito di Uria con il santuario del crocifisso di Varano. Una storia passata di bocca in bocca e diventata novella con l'aggiunta di personaggi come quello di Fragoletta. A mettere insieme le quattro versioni della leggenda il libro di Vito Carrasi, un ricercatore che ha a lungo indagato sulle fonti sia scritte che della tradizione orale per comprendere meglio l'origine della laguna di Varano e del mistero di Uria. L'occasione di riparlarne è stata la rassegna messa insieme da Michele Angelicchio e Rita Salvaggio e Vico del Gargano, dove la biologa Marina Lucrezia Celenti ha annunciato una novità che cambierà di certo il volto del territorio da Eschitella a Cagnano fino a Carpino, Rodi e Vico. Doveva essere un sito di immersione, sarà invece un parco scultorio semisommerso per poter tramandare in maniera diversa la storia di questa città che non tutti conoscono, grazie anche ai manufatti antropomorfi donati dai fratelli ceramisti di Peschici, i fratelli Biscotti, che li hanno donati alla serendipita 3L e da loro messi a disposizione del comune di Eschitella per realizzare questo parco. L'accoglienza turistica si sa è fatta di piccoli dettagli e secondo un maggior numero di commercianti di Manfredonia, ognuno può metterci del suo per rendere la città più attraente. Come colorare una strada attraverso una serie di ombrelli colorati, iniziative semplici ma sempre originali, di sicuro effetto scenico alla vista dei visitatori. Ce ne parla Matteo Fidanza. Colori in via Campanile, qual è la ragione di questi ombrelli colorati? Esattamente, come avete detto voi, colori in via Campanile, era quello l'obiettivo, era quello di riempire la strada, di riavvivare questa strada e quindi di riempire gli ombrelli colorati e di vedere sempre più gente in questa via e quindi bimbi, famiglie che fanno le foto, postano sui social, era questo il nostro obiettivo. Mio e quello di Alessandro accanto a me. Alessandro, hai sposato questa iniziativa anche tu, hai un'attività qui su via Campanile, le ragioni di questa iniziativa, perché hai voluto aderire e hai accettato la proposta che ti è stata avanzata? Mi collego al discorso che ha fatto il mio amico per abbellire, per attirare un po' di turismo, un po' di persone, bambini, dare un po' di colore alla via, di creare qualcosa anche per Manfredonia perché si parla sempre negativo, quindi per creare qualcosa di positivo questa volta. C'è riscontro, c'è consenso? Dal giorno che abbiamo messo gli ombrelli, credo che la gente ha fotografato tantissimo. Chiudiamo con la tre giorni della gentilezza a Sansevero è che si è conclusa con la cena del 12 luglio ed una serie di eventi collaterali. Lo slogan era La gentilezza trasforma e crea comunità. Beniamino Pascale. La tre giorni della gentilezza a Sansevero si è conclusa con la cena del 12 luglio con una serie di altri eventi, ma tutti allo slogan La gentilezza trasforma e crea comunità. All'interno del progetto Costruiamo gentilezza a Sansevero prima e dopo. Il clou della Kermes, organizzata dall'ambasciatrice della gentilezza, la pediatra Cangela De Vigo, con il patrocino dell'amministrazione comunale assessorata ai servizi sociali e a cultura, è stata appunto la cena in via soccorso in pieno centro storico con la presenza di oltre 200 persone. Tre giorni molto intensi nei quali si sono voluti far passare messaggi di comunità, solidarietà e ecologia rispetto dell'ambiente del prossimo con azioni concrete. Il tutto sempre nel centro storico della città d'arte, affinché si ribadisse il concetto di bellezza e la storia dei luoghi che sono parte integrante delle redici del senso di appartenenza di una comunità. Contenti anche i commercianti per l'animazione che la cena ha svolto nel centro storico, una cena che come buone prassi potrebbe essere istituzionalizzata. Bene, abbiamo concluso anche oggi con l'informazione. Prossimo appuntamento, lo ricordo, domani alle 14 in prima edizione con il quotidiano L'Attacco e il suo TG Web. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.